Grazie a tutti. Questa mattina abbiamo parlato con la giornalista che ha pubblicato il libro e vorremmo capire un po' i dati relativi al virus, soprattutto qua in Italia. Allora, in Italia la situazione è una situazione di stallo, nel senso che ogni anno, e parliamo perlomeno dal 2010 a venire in qua, quindi almeno 7 anni, il numero delle nuove infezioni di HIV è sempre uguale. Siamo intorno ai 3.500-4.000 nuovi casi ogni anno. Quando dico nuovi casi intendo persone che si scopre hanno l'infezione, ma di questi soltanto un 16% sono infezioni recenti. Quindi questo significa che c'è una numerosa quantità di persone che hanno l'infezione da tempo e che scoprono, magari, soltanto in una fase avanzata, di essere seropositivi, quando magari già sono comparsi i sintomi della malattia. In effetti i dati del centro operativo AIDS ci dicono che oltre il 50% di queste persone che scoprono l'infezione hanno già un grave deficit dell'immunità, quindi un numero di linfociti CD4, che sono le cellule che il virus colpisce, inferiore a 350. Quindi il concetto importante è che ci è molto sommerso ancora e non a caso il piano nazionale IVAIDS, che è stato pubblicato a novembre e che copre l'arco temporale 2017-2019, mette proprio al primo punto il cercare di sviluppare delle strategie che consentano di far emergere questo sommerso. Perché di AIDS se ne parla poco, di infezioni da HIV se ne parla il giorno, il primo dicembre, ma poi il resto dell'anno c'è molto silenzio e anche le campagne di informazione tra i giovani nelle scuole sono molto diminuite, sono quasi scomparse e quindi invece c'è molto bisogno di rendere consapevole le persone che l'infezione c'è sempre. Certo non abbiamo più quella situazione drammatica, tragica degli anni 80-90 in cui i pazienti praticamente ricevevano la diagnosi di infezione e questa equivaleva a una diagnosi di morte certa. Quindi la situazione da questo punto di vista è molto migliorata, noi riusciamo a curare i pazienti nel senso che li facciamo stare bene, cerchiamo di garantire una vita più possibile normale, una sopravvivenza che si sta avvicinando sempre di più a quella di una persona di pari età, si era negativa, però l'infezione c'è e quindi c'è necessità di essere consapevoli di questo, di sottoporsi a controlli, se non si è tranquilli, insomma far circolare un pochino di più il concetto che l'IV in realtà non è per niente debellato e che le nostre terapie curano ma non guariscono, quindi il problema rimane. Ha citato proprio la questione delle terapie, ecco allora le chiedo come sono cambiate le terapie nel corso del tempo? Tra l'altro si è diffuso adesso anche proprio un nuovo concetto di prevenzione che forse all'inizio non c'era perché si interveniva ex post. Certo, allora beh la terapia è cambiata tantissimo in questi anni, forse è uno dei campi della medicina dove sono state fatte le maggiori scoperte, noi abbiamo a disposizione oltre 28 molecole differenti per il trattamento dell'infezione di HIV, per cui fino al 1996-97 non avevamo nessun farmaco che funzionasse a lungo nei confronti dell'HIV, avevamo delle terapie che funzionavano per un breve periodo di tempo e poi il virus diventava resistente e quindi il paziente peggiorava e poi moriva. Nel 1996 è stata introdotta quella che noi chiamiamo la terapia di combinazione, cioè almeno tre farmaci appartenenti a classi diverse e questa è stata una svolta epocale, nel senso che abbiamo trasformato questa malattia da una malattia acuta rapidamente mortale a una malattia cronica, in cui il paziente però deve continuare a prendere la sua terapia per tutto il resto della sua vita. All'inizio, nei primi anni in cui sono uscite le terapie di combinazione, i pazienti prendevano anche 25 compresse al giorno, in 3-5 dosi refratte, in alcuni casi con il cibo, in altri casi a digiuno, avevano importanti effetti collaterali, cito soltanto il problema della lipodistrofia, per cui magari il volto si smagriva, gli arti si smagrivano, diventava quasi un marker di riconoscimento per questi pazienti. Poi nel corso degli anni le industrie farmaceutiche hanno lavorato molto e hanno semplificato via via le terapie, quindi le terapie sono andate aumentando di potenza, ma sono state sempre più semplici. Oggi noi abbiamo diverse molecole che possiamo somministrare in un'unica compressa e quindi riusciamo a fare tutta la terapia in un'unica compressa. Quindi è stato epocale anche questo miglioramento delle terapie, molto potenti, pochi effetti collaterali, semplicità di assunzione, rimane però il problema della continuità di terapia. Quello a cui accennava lei è il discorso della terapia come prevenzione. Ormai noi sappiamo che nel momento stesso in cui facciamo la diagnosi di infezione, noi dobbiamo iniziare a trattare subito quel paziente, perché se il paziente è bravo, prende bene la terapia, in breve, nell'arco di sei mesi, la carica virale diventa negativa e quella persona, praticamente, se è costante nell'assunzione, non trasmette l'infezione. Quindi la terapia diventa un beneficio per il singolo, per il paziente, che migliora, ma è anche una protezione per la trasmissione dell'infezione. Un'altra modalità di utilizzo della terapia come prevenzione è la PrEP, che in Italia ancora non si fa, cioè è un'assunzione di farmaci attivi per l'HIV nelle persone sieronegative che sono esposte ad un alto rischio di contagio. Questo concetto, questa PrEP, cioè quindi una terapia prevenzione, è abbastanza diffusa nei paesi del nord Europa, in Italia si comincia a ragionare adesso seriamente, però ancora nessun centro clinico la sta praticando. Un'ultima domanda per i nostri ascoltatori. Ci può dire in pochissime parole, in modo molto semplice, anche per chi non studia medicina, che cos'è un retrovirus? Allora, un retrovirus è un virus molto intelligente, perché è un virus che ha sviluppato la capacità di inserirsi all'interno di una cellula umana stabilmente. Per fare questo ha bisogno di un passaggio, che è una retrotrascrizione, per cui, mentre normalmente nella biologia umana, animale, funziona che il DNA e lo stampo e l'RNA è il derivato, in questo caso il virus fa esattamente il contrario. Parte da un RNA che viene retrotrascritto in un DNA. Questo dà il nome, cioè il nome dell'enzima, dà il nome alla famiglia. Il fatto di trasformarsi in un virus a DNA gli consente di entrare nel genoma della cellula, nel cromosoma della cellula e blindarsi all'interno della cellula. E questo è un meccanismo potentissimo che permette al virus di sopravvivere e di resistere molto anche al trattamento farmacologico. Grazie mille. È gentilissima.